Mary Jane ASMR Ciao ragazzi Buone feste a tutti quanti voi Ciao cuccioli miei eccomi ritornata in un video altamente rilassante tutto quanto per voi allora io spero stiate bene abbiate passato finora delle buone feste mi auguro continuate a passare bene le vostre festività come sempre vi ringrazio di cuore a tutti per il calore e l'affetto che dimostrate nei miei confronti ma soprattutto nei confronti del mio canale youtube oggi ragazzi vi faccio rilassare ovviamente come al solito prima voglio accendere il palo santo ho finito i fiammi per userlo con l'accendimento per purificare un po' l'ambiente andrò ad utilizzare il palo santo andiamo a ripulire tutto quello che c'è intorno a noi quindi purifichiamo un po' l'ambiente riequilibriamo le nostre vibrazioni profugo dolceissimo e lo lascio qui accanto buon profumo ragazzi buon profumo e continuo con il farvi rilassare a mio modo nel mio dolcissimo dolcissimo modo io ragazzi per voi solo 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 per voi mi dedico a un video dedicato io a fare un attorno a dare un colo che innanz PhD io Sì, 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 sì Sì, sì, sì. Sì, sì. un po' di più è delicatissimo questo scrunchie potete notare l'albero che si muove? e Minnie? Minnie è la teppista che va a rubare dall'albero qualche addobbo da rosicchiare in legno e 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 no 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 vrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövrövröv no 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 no! grr e grr tttt unmotementissimi ha sono la 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 spero che tu possa dormire, dormire bene fare sogni tranquilli e ci rivediamo al prossimo video ciao